Il Consiglio regionale ha bocciato oggi la mozione di censura avanzata dall'opposizione nei confronti dell'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai. Oltre ai voti contrari della maggioranza nelle file delle minoranze sono venuti a mancare due voti nel Movimento 5 Stelle, quello della capogruppo Alice Salvatore in congedo per malattia e quello del consigliere Pisani rimasto fuori dall'aula al momento del voto. Un atteggiamento criticato dal gruppo del Partito Democratico anche in considerazione del fatto che erano stati i propri grillini a proporre per primi la mozione di censura nei confronti di Mai. Sempre il PD ha fortemente criticato l'assessore leghista Stefano Mai per i mancati risarcimenti nelle imprese agricole alluvionate, per i forti ritardi nei bandi del piano di sviluppo rurale e per lo scarso sostegno ai parchi liguri. Per il capogruppo della Lega Nord Alessandro Piana invece tutta questa vicenda è stata semplicemente una gogna mediatica orchestrata contro Mai che ha invece incassato la piena fiducia e sostegno da parte di tutta la maggioranza. Grazie a tutti.